ciao amici sono gian dal 36 e per la serie cose belle oggi parliamo di cyberpunk 2077 un videogioco che sto aspettando da non so neanche io quanto in poi che lo sto aspettando ma visto che per poterci giocare dovremo attendere ancora fino al 17 di settembre speriamo sia la volta buona oggi ci godiamo un piccolo aperitivo con il suo bel controller sempre ispirata appunto al videogioco che nasce per xbox one oggi ne faremo l'unboxing la recensione e andremo ad analizzarlo in ogni suo aspetto ma iniziamo subito perché ho una gran fretta di vedere con voi questo controller e quindi non perdiamo altro tempo e iniziamo subito dalla scatola questa è la parte anteriore quindi bellissima questa colorazione vabbè peggy scritta xbox in verde sopra e poi cyberpunk 2077 sul lato destro minimal ma veramente molto molto bella questa è la parte dietro dove riconosciamo subito il controller davanti e dietro lo stemma del gioco e varie diciture in varie lingue controller wireless eccetera eccetera una cosa curiosa è che qui c'è scritto potenza il tuo intervento vivi la vita dei mercenari con il controllo in edizione limitata di cyberpunk 2077 ispirato a johnny silverhand credo che sia il protagonista del gioco e questo per quanto riguarda la scatola la parte di lato non me la faccio neanche vedere perché sono le solite raccomandazioni su come usarlo come connetterlo che probabilmente saprete già a memoria ci sono nelle varie lingue in tutte e due i lati ed ora andiamo ad aprirla e paparabam ed eccolo qua mamma mia che bello ragazzi veramente bellissimo l'effetto rovinato è fatto veramente bene ammiriamolo in tutto il suo splendore che bello ragazzi guardi dietro c'è anche un bel grip favoloso veramente veramente bello accantoniamolo un attimo vediamo cosa c'è dentro l'altro proseguiamo velocemente e qui abbiamo le pile ebbene sì signore e signori microsoft nel 2020 cina ancora le pile per i controller questa cosa ne parliamo dopo sotto troviamo vediamo un po cosa c'è questo è un abbonamento xbox game pass per 14 giorni gratuito dietro c'è il codice se volete provarlo sicuramente ne varrà la pena e poi qui vabbè i vari manuali su come connetterlo nelle varie lingue manuale di istruzione questi che ve lo dico a fare tanto non li legge mai nessuno allora questo mettiamo a posto le pile lasciamo fuori le mettiamo subito e proseguiamo con il controller e torniamo a lui il nostro controller in tutto il suo splendore allora per quanto riguarda parte davanti i tasti sono posizionati in maniera classica come un normale controller xbox c'è il tasto home sempre al centro che si accende ed è bianco quando si accende i tasti menu e visualizza posizionati nella stessa identica maniera il suo design minimal perfetto come sempre non c'è molto da dire sui pulsanti frontali se non il cambiamento di colore qui sono tutti rossi a differenza di quelli classici con i quattro colori tradizionali di xbox la croce direzionale invece la trovo comodissima soprattutto perché è dentro questa conca che la rende veramente molto molto facile da utilizzare ed ora andiamo a vedere la parte anteriore ed eccola qua bellissima i pulsanti a spalla e i grilletti sono i classici anche qui però cambia la colorazione c'è questo rosso questo nero opaco molto bello questa è la classica micro usb davanti che serve sia per collegare il controller all xbox e al pc sia per ricaricarlo ovviamente come sapete questo può essere usato anche con il pc purché abbiate windows 10 la parte dietro c'è il classico jack per le cuffie i grilletti hanno lo stesso gioco di sempre perfetto ed ora andiamo ad analizzare bene le levette analogiche il posizionamento asimmetrico delle levette analogiche è una sorta di firma per i controller xbox c'è da tempo un grande dibattito se sia meglio che le levette siano asimmetriche oppure appunto simmetriche come ormai ci abituati playstation la mia opinione è che sento poco la differenza nel senso che quando gioco sia a uno che all'altro mi è sufficiente pochissimo tempo per abituarmi con entrambi i sistemi e alla fine quando sono concentrato sul gioco non mi accorgo più neanche della differenza anche se devo dire che queste qui mi sembrano un filino diverse rispetto a quelle classiche nel senso che mi sembra che il grip sia leggermente più evidenziato e la conchettina che ti tiene dentro il dito sia forse un po più accentuata probabilmente perché questo è nuovo però devo dire che con questo grip in questa posizione praticamente perché accendiamo anche il tasto praticamente si riesce veramente ad avere un impugnatura molto molto solida l'unica cosa invece che fa la differenza con i controller sony sono le pile che odio ora io mi domando come sia possibile che nel 2020 con l'avvento della next gen tra pochi mesi tra l'altro e ancora microsoft ci proponga i controller con le pile per me è incomprensibile cioè per quanto dicano che abbiano abbiano anche un'autonomia di 40 ore non esiste un modo per verificarlo a causa della differenza tra le varie marche a proposito anche se vengono sconsigliate le ricaricabili vanno benissimo e ora la parte posteriore e qui vediamo già qualche piccola differenza allora parte il logo cyberpunk dietro il contenitore delle famose pile qui c'è un grip che hanno messo su entrambi i lati che è fantastico perché al tatto lo senti proprio che tiene le dita proprio così impedisce alle dita di muoversi e quindi quando noi andremo a prendere il controller in mano in questa maniera qui praticamente c'è questo grip sia per quanto riguarda l'impugnatura sia per quanto riguarda sotto che praticamente impedisce ai pollici e alle mani di scivolare questo è fantastico quindi la parte dietro sicuramente differente rispetto a un normale controller favoloso veramente volta preso in mano non si schioda più ed ora vediamo ciò che rende unico questo favoloso controller che è la sua colorazione questo grigio nero opaco e favoloso con alcune sfumature di rosso ecco io ci avrei messo anche però un po di giallo perché il giallo è il colore predominante di cyberpunk e qui non c'è nulla però a parte questo è bellissimo lo stesso è impressionante come siano riusciti a ricreare l'effetto danneggiato spero di riuscire inquadrarvelo bene perché è fatto veramente molto molto bene un'altra bellissima cosa è questa scritta no future nessun futuro che non è stampata è proprio impressa quasi come se fosse stata scritta con un chiodo o con una chiave si sente pochissimo attacco ma si capisce appunto che sarà fatta in questa maniera qui e quindi lo consiglio ma assolutamente sì adesso io mi taccio anche perché ho parlato abbastanza vi lascio con qualche immagine che ho girato in modo da farvelo vedere a 360 gradi in ogni suo minimo particolare ma prima intanto se il video vi è piaciuto mettete un bel like iscrivetevi al canale ricordatevi di attivare la campanella così rimanete sempre aggiornati su tutte le novità di questo nuovo canale grazie ancora per l'attenzione e mi mi raccomando state senza pensieri buona continuazione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti